Guardate, Alessia è bella! Cosa state facendo? Attenzione, stiamo a partire la storia dell'auto. Sabato 6, domenica 7 maggio, in collaborazione con la stampa, parte Collezione Italia, la storia delle più belle auto italiane. Venite in tutte le concessionarie Alfa Romeo, Lancia, Innocenti, Maserati e Fiat. Si vincono 7 auto da sola, compresa un'autentica Ferrari di Formula 1, la F93A, centinaia di lattine di olio Selenia, migliaia di altri premi. E con la stampa, in omaggio l'album per iniziare la splendida raccolta delle figurine di Collezione Italia. E se vince la Ferrari? 6-7 maggio, Collezione Italia. Preparatevi a vincere.